Roberto Scaini, medico, lavora per Medici Senza Frontiere contro l'epidemia del virus di Ebola, che ha causato la morte di 3.500 persone dallo scorso marzo. Per Medici Senza Frontiere, Scaini ha curato i malati in isolamento nel centro di Monrovia, in Liberia, uno dei paesi più colpiti dal virus. Per aiutare i medici che, come Roberto, combattono in prima linea contro Ebola, si può donare a Medici Senza Frontiere sul sito www.msf.it. Oggi possiamo dire che il mondo sta semplicemente a guardare quando sta a guardare quello che sta succedendo. Abbiamo avuto promesse, ma nessuna azione concreta. Stiamo chiedendo a gran voce che ci siano più partecipazione da parte di tutti nella creazione di nuovi centri di isolamento e in quella che è l'azione anche a livello delle comunità in termini di distribuzione di kit di protezione o di educazione sanitaria. Ad oggi Medici Senza Frontiere rimane da sola di fronte a questa sfida e il risultato è proprio quello che la gente muore al di fuori dei nostri cancelli. Non stiamo vedendo alcun intervento concreto. E l'azione va fatta oggi perché domani è senz'altro troppo tardi. Non possiamo permetterci il lusso di aspettare il vaccino che verrà, piuttosto che non il farmaco del futuro. Con i governi locali chiaramente partecipiamo, sono coinvolti attivamente, ma ricordiamoci che sono paesi in cui i sistemi sanitari erano già ridotti al minimo prima. Oggi sono di fronte al collasso completo. Gli ospedali sono chiusi, gli operatori sanitari sono stati fra le prime persone colpite e quindi affette dal virus per ovvi motivi, perché si prendevano cura di malati quando ancora l'ebola era misconosciuta. Quindi non si può chiedere ai governi locali che siano gli unici attori in questa sfida. Serve assolutamente l'aiuto delle autorità internazionali ed è quello che stiamo chiedendo. Nei paesi occidentali, industrializzati, al di fuori dei confini dell'Africa, il rischio non è zero e quello che è successo negli Stati Uniti è una chiara dimostrazione che il rischio zero non esiste, ma al contempo è anche la dimostrazione che ci sono tutte le forze per contrastare, per trattare il singolo caso e soprattutto per evitare che dal singolo caso si origini un'epidemia. Quindi il rischio di avere un'epidemia nei nostri paesi è ancora lontano. Il proiettore va riportato laddove non si parla di un ipotetico rischio, ma di una concreta emergenza.